Manuele sei venuto fin dalle zone di Padova per cogliere questa splendida vittoria qui a Petrignano? Ma sì, era un po' di anni che inseguivo questo obiettivo e dai, è anche il mio compleanno oggi, quindi ho fatto un plan e sono contentissimo anche perché è una terra fantastica e mi piace viverla e mi piace anche sportivamente perché sono molto accoglienti ed è divertente, ci passi sempre in compagnia ed era giusto viverla così, al massimo, dando il massimo e spero di aver anche dato spettacolo. Un percorso che sembrava semplice in realtà si è rivelato pieno di insidie? Sì, soprattutto per il terreno, il terreno era umido in superficie e battuto sotto, la velocità li si affaceva però era rischioso, in cura si scivolava parecchio e alcuni punti riportando anche dei traumi in allenamento questa settimana non ho voluto rischiare troppo e li ho fatti a piedi. Poi una volta preso anche confidenza con il mezzo ho espresso le mie qualità e mi è andata bene, facendo un giro in più ovviamente. La tua dedica per questa vittoria? A mio padre che oggi e ieri è stato qua con me, a tutta la famiglia e soprattutto agli sponsor che mi permettono di fare anche l'attività invernale da tre anni a questa parte e soprattutto anche gara di un certo livello e anche rispettare gli impegni presi di calendario. Ecco, Petrignano era un cerchietto e ho rispettato al meglio la promessa fatta agli sponsor e alle persone che contavano su di me.